Ben ritrovati amici del centro meteo italiano. Ancora flusso umido sull'Italia con molte nuvole e qualche pioggia. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per mercoledì 21 aprile. Deboli precipitazioni al mattino sulle regioni di nord-ovest, asciutto altrove ma con nuvolosità in transito. Al pomeriggio precipitazioni sparse al nord con fenomeni generalmente di debole intensità, locali piogge anche sulla Sardegna. Variabilità asciutta altrove. Il serato è notata fenomeni in estensione ai settori centrali tirrenici e a Calabria e Sicilia, migliora al nord-ovest. Temperature minime stabili o in aumento, massime il lieve calo al nord e in aumento al centro-sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.